La polizia postale di Asti ha denunciato un 28enne astigiano per estorsione sessuale. Si tratta di un giovane pregiudicato che all'insaputa della vittima dopo essere entrato in possesso di filmati a sfondo sessuale autoprodotti li pubblicava in rete. L'attività prende avvio da una denuncia presentata da una trentenne astigiana rimasta vittima dell'estorsione. La giovane donna aveva notato all'improvviso un aumento di richieste di amicizia più di 800 abbellite da indelicati apprezzamenti di natura sessuale talvolta di proposte di incontro fino alla ricezione sul proprio smartphone di video hard autoprodotti qualche tempo prima ma mai condivisi con altri soggetti. Le immediate ed approfondite indagini svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni hanno consentito di scovare chi si nascondesse dietro quei contatti. Gli investigatori hanno accertato l'esistenza di due gruppi anonimi su Facebook di cui un annoverante circa 1300 iscritti all'interno del quale era stato postato il video associato alla ragazza e divenuto in poco tempo popolare nella cerchia dei più curiosi della provincia piemontese. La ragazza ha confidato ai poliziotti di nutrire i sospetti su un suo amico cui tempo prima aveva prestato il telefonino e che nell'atto di restituirglielo aveva inspiegabilmente commentato bello il video. La denunciante riuscita a ricostruire il percorso iniziale seguito dal filmato aveva deciso di contattare direttamente l'amministratore del gruppo segreto Facebook per porre fine alla gogna virtuale senza però alcun successo. Era stata infatti ricoperta di insulti e minacce sul social network ed inoltre avvicinata fisicamente da due giovani che avevano tentato di estorcerle del denaro. Grazie a tutti.